Rieccoci, partiamo subito, vi siete appena immersi. Allora, profondità del mare, vi ho detto che non era limpidissimo perché c'era stato questo Benedetto Nigno che vi ha un po' scombusolato i piani e anche reso l'acqua meno terza. Anche dal punto di vista degli avvistamenti perché chiaramente quello che noi volevamo vedere, le otari eravamo certissimi di vederle però volevamo avere l'incontro con le balene, il cetacea, l'orca magari sarebbe stato bellissimo però non c'è stato perché questi sono degli animali, mammiferi, specifichiamo subito che prediligono l'acqua fredda per cui se lo si è alzato si è spostato quindi vanno verso altri litri esatto, vanno stati verso altri litri questo so che tu le vedi sempre però sono animali sempre bellissimi, affascinanti questo qui è uno scorfano ben mimetizzato, preso di fronte adesso lo riprenderò anche lateralmente ma però è mimetizzato al punto tale che è difficile da vedere cioè un occhio attento lo riconosce subito lo riconosciamo dal pallino nero che è l'occhio ecco se guardiamo bene vediamo la bocca però è molto mimetizzato questi qua sono dei pesci chirurgo endemici proprio lì con la coda verde però con la coda verde infatti che non sempre non sono proprio particolari questi qua li troviamo lì proprio in una zona particolare del mare li abbiamo lì questi sono molto belli i pesci chirurgo ricordiamoci a quei rostri ecco qui un'otaria però non siamo ancora guardate come si muove in acqua l'otaria viene a giocare con noi però è un cormorano guardate il cormorano è la prima volta che mi capitava di vedere un cormorano in acqua e l'ho preso al volo come ripresa le otarie vengono a giocare con noi però loro giocano ma bisogna stare attenti a non eccedere noi perché potremmo prendersi qualche morsicone ah addirittura sì perché loro sono adesso dove cioè sono tranquille ma sono tranquille però possono darti qualche qualche morsicone te lo possono dare e hanno dei denti una dentatura che non è tanto da scherzare ecco ma questo ve l'hanno raccontato sì sì no ce l'hanno detto dice state attenti ecco qui una corona di spine questa stella marina che vediamo è una stella marina che purtroppo devasta la barriera corallina questa qui mangia in Australia ha fatto un danno spaventoso alla barriera corallina australiana per chilometri e chilometri si sono riprodotte in una maniera che non si è spiegato come potessero riprodursi così velocemente e hanno distrutto la barriera corallina australiana per parecchi chilometri in questo caso è che non avevamo nessun retino sarebbe stato da mettere la sun retina e portarla a terra e farla morire perché questa veramente crea dei problemi un tartufo di mare un dondolo piccolissimo si ho trovato proprio così ho fatto vedere questo invece è un relitto ancora della prima guerra mondiale che è rimasto ben poco non è stata una zona di grande battaglia in Messico battaglie terrestri dal punto di vista delle rivoluzioni Panciovilla tutti quelli che sono stati si ma dal punto di vista in acqua non ci sono stati grandi scontri comunque questa è una nave che è stata affondata adesso non so la storia comunque quasi tutta sotto la coperta questa invece è stata affondata volutamente per creare un habitat marino quindi è stata perfettamente pulita da quelle che potrebbero essere batterie serbatoi e tutto il resto per poi affondarla per creare un punto di riproduzione e un punto di ripopolamento marino e qui adesso la giriamo un attimo qui entriamo qui vediamo i vari verricelli per alzare per calare e ammainare l'ancora e qui passiamo praticamente tutto un giro esterno vediamo i pesci come oramai si sono appropriati come la natura si è appropriata come ha ricoperto questo proprio questo relitto e qui entriamo proprio dentro nel relitto e vediamo anche a parte che essendo stato affondato apposta per il ripopolamento sapevano benissimo che poi sarebbe stato visitato da tantissimi subacqui per cui le aperture sono belle grandi non c'è nessun pericolo non ci sono cavi elettrici che possono imbrigliarsi sulle rubinetterie delle bombole esattamente quindi qui si può entrare proprio veramente tranquillamente qui vediamo una parte della cucina hanno lasciato gli arredi anche per fare un po' di coreografia a chi entrare esattamente ma che bello mamma mia un muro proprio un muro proprio di pescetti veramente sì questi qua eccoli qua questa è una zona protetta sì direi direi di sì però non sono proprio sicuro che sia proprio protetta ma comunque direi che abbastanza protetta soprattutto qui non c'è la presenza di una flotta di pescatori sono molto pochi molto pochi esattamente non c'è depauperamento no non c'è depauperamento però è un mare che sembra molto ricco sì no no sarebbe ricchissimo come mare per questo senz'altro qui abbiamo avuto la sfortuna perché questi pesci qua acqua calda o acqua fredda restano qua ecco ma invece sono i grandi cetacei che sono venuti a mancare ecco qui vediamo un pesce imperatore ma questi qua sono sempre presenti qui è Dario che anche lui si è avventurato dentro al relito qua della nave e facciamo il giro e andiamo fuori e qui è Francesco che viene dovete avere sempre il faretto con voi qui in questo caso essendoci queste grandi aperture si vedeva sempre l'uscita anche da dentro per cui in qualsiasi punto si andava c'era sempre la possibilità di uscire non c'era bisogno di avere il filo d'ariana ecco in questo caso guardate qui qui è una bolla d'aria che si è formata nel soffitto esattamente però attenzione quest'aria qua non bisogna mai respirarla questa può essere veramente tossica quindi proprio uscire esattamente uscire tenendo l'erogatore in bocca ecco respirando l'aria delle nostre bobole e vedere qui abbiamo questa bolla che si era formata sul soffitto qui proseguiamo a vedere tutte le varie strutture della coperta qui sono le maniche a vento che servono per areare le parti sotto della stiva portare l'aria comunque fanno sempre impressione anche se sono state deliberatamente fatte affondare esatto impressionanti impressione sì ma anche fascino perché anche proprio veramente entrare dentro su questi relitti a me è sempre creato un grande fascino e vedere soprattutto questo d'accordo è stato affondato quindi non tra la storia perché a me piace anche sapere la storia dell'affondamento come abbiamo parlato all'altra puntata dell'Umbria per dire che è stata affondata la prima nave affondata della seconda guerra mondiale cioè sono quelle cose che affascinano proprio sapere queste cose e qui adesso passiamo all'immersione quella con le otarie che vi dicevo prima e qui le vediamo in gran mucchio mamma mia tutto questo perché c'è una corda qualcosa che le attende è l'ancora è l'ancora è l'ancora esattamente le mordono sì no guardava ma si è ben accorta che la catena sarebbe stata dura non era commestibile no ma oltretutto ci rimetteva i denti lei ecco qui vediamo come viene attenzione come mi attacca all'obiettivo cioè lì è stato un momento ma lì però non ha fatto niente cioè ha visto benissimo che era praticamente un pezzo metallico che non la poteva fare però avete visto anche la dentatura no quello no avete visto la dentatura ma anche questa decida apre la bocca prende c'è la tua mano come dicevo prima questo è un maschio questo qui è un leone marino eccolo qua e lo vediamo ben più grande lo vediamo ben più grande più maestoso vediamo le orecchie avete visto bene le orecchie le otarie da otto sanno le orecchie a differenza delle foche ecco però una domanda che mi ero posto e ho fatto un po' di studi se noi guardiamo noi quando andiamo sotto abbiamo le parti cave tra cui le orecchie compensiamo introducendo comprimendo l'aria chiudendo il naso e spingendo l'aria nella parte interna del timpano in modo tale che pareggiamo la pressione dell'acqua sulle nostre orecchie facciamo anche le dimensioni che non sono piccoline io mi sono chiesto le otarie come compensano se noi guardiamo ogni tanto vediamo che buttano fuori aria loro hanno lo stesso sistema nostro di compensazione e comprimono dalla parte interna del corpo portano l'aria nella parte del timpano istintivamente 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 e questo sì infatti noi ci chiudiamo il naso per comprimere l'aria e farla andare nelle orecchie ma sono piccicose sì no ma sono proprio lì in questo caso sono anche coccole se guardiamo ecco che vanno a giocare guarda che hanno sempre questa bocchetta aperta sì che bello no proprio e qui le vediamo proprio l'agilità che hanno come si muovono in acqua ecco questa è una ripresa che ha fatto Dario io quel giorno non ho fatto l'immersione qui vediamo l'attacco dell'otaria a Nicola che l'ha preso per il cappuccio esattamente gli ha strappato il cappuccio gli ha strappato il cappuccio esattamente eh sì cioè gli ha portato via un pezzo di di no no non gliel'ha rotto però è stato un momento che proprio con i denti ha sentito bene i denti sulla testa ecco in questo caso non proprio malissimo però stava meglio prima ecco sì e qui invece la vediamo sotto tranquilla e qui ecco non pensavo che avessero anche questa eh sì ogni tanto soprattutto bisogna stare attenti se mordono le fruste degli erogatori perché loro in quel caso li si danno e mordo e tirano e mordono e tirano ti tolgono l'aria improvvisamente di bocca ecco quello bisogna controllare non riuscirebbero a strappare il tubo no perché è molto resistente però bisogna controllare trattenere il tubo tenerlo con la mano per non trovarsi senza erogatori in bocca ma sono abituati a che nessuno fa loro del male perché sono molto tranquilli loro sono abituati alla presenza dei subacquei ecco qui un altro maschio che gira cioè li vediamo sono curiosi ma poi molto calmi che vengono intorno e girano così ecco qui non c'è profondità siamo al massimo siamo a 7 metri di profondità bellissimo questa e queste qui proprio le otarie è una cosa veramente eccezionale proprio veramente di che cosa si nutrono? è pesci loro proprio vanno in acqua e comunque lì non hanno problema in questo caso sto giocando con un piccolo sassetto ecco per dire qui la vediamo come viene giù e guardate come si muove cioè mi crea problemi la ripresa per le velocità di movimento che loro hanno eccole qua guardate è una danza che fanno in acqua proprio hanno un'agilità ed eccole qua tutte assieme poi quando loro finiscono entrano in acqua e stanno sempre in gruppo si e stanno sempre in gruppo quando loro finiscono vanno in superficie ecco comunque tra un po' lo vediamo quando saranno in superficie sono riuscito a farmi accogliere in mezzo a loro addirittura? proprio lentamente lentamente poi mi hanno accettato ed ecco qui sempre loro vanno sul fondo sono molto incuriosite dalla presenza del subacqueo poi abituate alla presenza del subacqueo perché in questo punto vanno sempre a fare immersione i subacquei per cui vengono a giocare con noi cioè loro giocano con noi ripeto cioè noi dobbiamo stare un attimo attenti e facciamo solo parte del giocattolo noi non possiamo stare ecco qui in questo caso qui vediamo che sono in superficie e io adesso lentamente lentamente mi avvicino sempre di più come mi avvicino loro regolarmente andavano nuotavano via o andavano in profondità cioè si sentono più tranquilli sott'acqua sì non sapevano la mia presenza cosa potesse portare invece poi alla fine hanno capito che nulla facevo di male a loro e sono riuscito a stare in mezzo a loro e quella è stata una bellissima esperienza ecco qua che mi avvicino sempre di più fino alla fine ad accettarmi ecco che non scappano più e sto in mezzo a loro proprio tranquillamente non ti assaggiano insomma no non mi assaggiano poi tra un po' mi metto anche io a fare il loro verso ecco così ah sì no scherzo no tanto per fare la parte ecco qui vediamo il gioco che loro fanno si attaccano con il muso al codino che hanno e vanno giù nuotando a cerchio e proseguono così e quindi stanno proprio e le vediamo e lo fanno molto spesso questo gioco hanno questa coda che dicevo prima la differenza tra la foca e l'otaria l'otaria ha la coda che la foca non ha sono sempre pinnipedi ma loro si muovono per carità anche la foca in acqua è bellissima da vedere si muove agevolmente e tutto il resto solo che la foca ha sempre in climi molto molto più freddi di quello che sono le otarie eh infatti è strano perché quanti che è 28 gradi vedere le otarie e infatti ma non dovrebbe mai essere così calda l'acqua è stato l'avvento del nigno che ci ha proprio rovinato un po' il viaggio se guardiamo bene ecco più non rovinato perché il viaggio è stato bello ce l'hanno rovinato semmai gli accompagnatori del cantamar dandoci due ore di ritardo la barca che si rompeva un giorno sì un giorno no mancavano le bombole sì non mi sentivo di dargli molta fiducia onestamente perché proprio hanno fatto tante cose tante cose che non ci ha dato fiducia no proprio deludenti allora con queste conservazioni che però sono anche importanti perché ti fanno capire secondo le varie parti anche del mondo dove vai a incappare quindi per fortuna hanno dato problemi di mare ma era tranquillo perché sennò dubito che stavolta avresti lasciato l'imbarcazione esatto andiamo subito in pubblicità a pochi secondi poi ritorniamo insieme